Buongiorno! Mi guardi, lei non è più un ragazzino. Oh mamma, mamma ti volevo... Vivere a casa mia è ogni giorno più difficile. Ce la faccio più. Meno male che c'è la mamma. Non c'è da cucinare né da stirare. Tutto è perfetto. Luca, dove si mangia in uno si mangia anche in due. Si mangia anche in due. Dai, su! Entriamo nel barasma delle maiale. Io e tua. Sono Svetlana. Giulio. Proviamo di fare evacuare il maligno da voi. Zitto! A presto!